Qui vi presentiamo le 5 migliori porcellini salvadanaio per adulti. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Auzbz Digitale Salvadanaio EuroCounter. Il salvadanaio rifornisce la luce durante il giorno e poi illumina la struttura la sera. Dedicato ai risparmiatori devoti, questo salvadanaio ha una capacità enorme, pari a circa 2,5 litri. Nella sua copertina è incluso uno schermo LCD che mostra l'importo completo delle monete che vengono progressivamente posizionate. È inoltre possibile aggiornare il conteggio manualmente tramite gli appositi pulsanti caratteristica utile se si aggiungono anche banconote. Realizzato con muscoli addominali resistenti. Passando al numero 4. Pagioma 60280, salvadanaio in ceramica. Questo affascinante salvadanaio in ceramica nera è realizzato a forma di maialino. Ed è anche molto originale utilizzare il gesso a patto che sia effettivamente possibile comporre i propri messaggi all'esterno. In questo modo, puoi decorarlo a piacimento o regalarlo con un messaggio personalizzato. L'opacità della ceramica e la vernice nera gli conferiscono un aspetto di qualità, rendendolo un accessorio perfetto per ogni per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Una mesa che scuccinella il denaro salvadanaio box per bambini e adulti. La sua struttura riecheggia quella di una parte superiore del corpo e, infatti, può contenere un piccolo tesoro al suo interno. Si tratta di un salvadanaio fatto a mano, dipinto a mano con un raffinato layout ispirato alla natura. È fatto di legno proveniente da boschi curati bene e bene. Le sue dimensioni ammontano a 12 x 7 x o. Almostat è top of our list at number 2. Autsps digitale salvadanaio eurocounter. Evoluzione tecnica del tradizionale istituto finanziario salvadanaio. Questa versione è sviluppata con uno schermo LCD sulla copertina e non appena le monete vengono inserite attraverso la fessura, le conta e visualizza anche il totale. Ha una capacità incredibile. Può contenere fino a 1,8 litri, equivalenti a circa 1000 monete. Il design chiaro del barattolo consente di tenere d'occhio i livelli. E infine il numero 1 della nostra lista. IDENA 337159, Cassaforte salvadanaio. Si tratta di un piccolo senza rischi, che fornisce un doppio sistema di sicurezza con i frutti e anche con il codice. Realizzato in acciaio, ha un interno abbastanza ampio per contenere anche banconote e piccoli oggetti. Ha una dimensione di 12 x 10 x 16 cm ed è offerto in varie tonalità nero, grigio, rosso e anche blu in base all'accessibilità. Nel bungle c'è maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più. Iscriviti al nostro canale.